Il progetto di questa serata porta la sigla Melodrams, è la nuova formazione guidata dal pianista Paolo Carrus, pianista e compositore più volte nel cartellone di questo festival. Negli anni passati ha diretto l'orchestra della scuola civica di musica di Cagliari su progetti relativi alla musica di Pat Metini, oggi invece propone una musica nuova, nuove composizioni che sono già andate ad informare un compadisc e oltre a Paolo Carrus al pianoforte, stasera ascolteremo Giuseppe Murgia al sassofalo. Corrado Salis al contrabbasso e Alessandro Galau alla batteria. Melodrams, buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 basso. a tutti. 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 a tutti.